C'è poco da dire su questo famoso capitolo 9, perché uno si immagina di trovare un manoscritto in una soffitta polverosa, invece era semplicemente in una libreria di un mio amico carinziano, Hubert Fankhauser, che è un ricercatore come me del periodo Prima Guerra Mondiale, Grande Guerra sulle Alpi Giulie, e lui l'aveva così, in fotocopia, non originale, battuto a macchina, penso non si sa se da Cugli o dal suo editore, e l'aveva avuto da Ingomar Pust, che Luciano ben conosce, che negli anni 70, quindi dopo i 30 anni che Cugli aveva chiesto di tenerlo segreto, l'aveva usato per scrivere un libro, Il Fronte di Pietra, uno dei più bei libri sulla Guerra sulle Giulie. Pust, da chi l'ha avuto non si sa, è morto parecchi anni fa, forse da Nau, un altro autore austriaco, e comunque lui ce l'aveva lì, nel suo grande archivio. Gli ho chiesto una copia della copia e dopo ho azzardato l'idea di pubblicarlo. E' sempre un identito di Cugli, anche se si parla di montagna, di montagna in guerra. Il problema grosso è stato tradurlo. Tradurlo, è facile tradurre la lettera, ma è difficile fare quello che Pokar faceva negli anni che sono stati tradotti i libri di Cugli, cioè di riuscire a mettere in italiano quello che Cugli voleva rendere. E questo è stato complicato, è stato grazie all'aiuto di Sandrini e di Cornelia che l'hanno tradotto, poi l'abbiamo un po' messo in italiano, però non credo che sia avvenuto come Cugli voleva. Grazie.